Un pallone, no? È un'altra cosa! Molto stretta per l'Unione Ferroviari, quindi Campoli tenta un pallonetto verso Guidi che aggancia, allarga sulla sinistra per Rossi, entra all'interno dell'area di rigore, il numero 7 contro Tutondo, molto bene Rossi, si allunga il pallone, va ancora Rossi, palla che esce, calcio d'angolo, ancora pungente il numero 7. Attenzione qui, Lattanzio, Camerini, allarga sulla sinistra verso Rossi che si abbassa a ricevere, 3 su di lui, parte il numero 7, e salta 2, ancora Rossi, arriva al limite, tenta la botta, attraversa di Rossi, poi palla alta ancora per i colori. La grutta a combattere, poi Catino, Capasso, allarga per Rotondo, parte il numero 10, alza la testa, vede mele, pallone lungo, linea per Catino, la fa scorrere molto bene il numero 96, palla centrale verso Antonini, lo intercetta, il numero 25 mele, bravo Antonini al tiro, respinto. Campoli, Campoli sappiamo, non tiene molto, lo dobbiamo valutare qui se andrà di precisione o di potenza, di potenza che ha il rischio di spararla altissima sull'altra traversa, va Campoli, il primo intercettivo sul portiere. Va bene, va bene, è meglio, dai, 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 sta per scoccare, attenzione a Rossi, nuovamente sulla sinistra contro Rotondo, il cross basso respinto, Grossi, Campoli, la grutta su di lui, bravo Campoli a difendere col corpo, poi finita, evitato il 20, va al tiro, Campoli, palla fuori. L'attanzio, si è allargato Mattei, gioca corto su Gabrielli, l'attanzio, portavala numero 5, scambio corto con Campoli, ancora Gabrielli verso Mattei, entra l'interno era di rigore, va al tiro, lo spinto da Boricazio. Palla in calcio all'angolo, rivederlo, pronto alla battuta privitera, gioca corto sull'attanzio, versante offensivo di sinistra, la montagnola, Mellaro, cross dolce verso Guidi, poi Rossi, poi Carlitto, Rossi, andando con il suo piede a migliore, non è rimendo la giusta potenza al pallone, bravi, insieme ora Gabrielli, poi Camerini non è finita, sale verso Rossi, esce fuori Carlitto, lo evita Rossi, ma si porta il pallone sul fondo. Palla il numero 20, alza la testa, evita l'attanzio, un po' di esterno verso Alteri, la mette giù, tetta la botta, pallone che rimane lì, ancora Alteri, tre quarti offensiva di sinistra, vertice basso dell'area di rigore, Cesaretti tenta il cross, uno spiovente che termina tra i bracci di Montevecchi, poi deve pulire Gabrielli, non è riuscito a dare. Pagno e pallo laterale in favore della montagnola. Veloci, ragazzi, veloci, 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 veloci. Ciolli, porta palla il numero 20. Per Guidi, la tocca, Camerini il tiro, palla che gira, caccia d'angolo. Palla le spinta, c'è l'attanzio, fa il corto da Mellaro, tenta il cross centralmente verso Cori Carlitto di Pugno, Alteri, la stoppa, mette a terra, perde palla e fuori di Guidi che tenta la botta di prima intenzione. Palla che termina nuovamente tra i bracci del portiere. Ciolli, buono scambio corto, pure verso Riva, la trutta. Porta palla al numero 20, rubato, sale la montagnola con Rossi, sopra la posizione di Camerini, Rossi, la montagnola. Pronti a battere gli uomini di Capasso, calcio di punizione tagliato al centro, esce con i pugni Montevecchi, Gioca corto su Mellaro, gioca corto su Ciolli, quindi Gabrielli attenzione perché palla, Catino allarga sulla sinistra, in avanti di Stefano dentro la botta. Ok, ok, allora appena è pronto, ti puoi pure mettere qui, ok? Qui? Bene, qui. Ora è il campo Giori, largo a destra, Riva, scarica molto bene sul Mellaro qui. Tre quarti, tenta il tiro, piazzato, Cori Carlitto, respinge, c'è Migliozzi sul pallone. E Pascagnola, Gabrielli, un po' un velo, mancavo, quindi porta palla da solo Alteri. Di tacco perde poi il pallone Capasso, attenzione di Stefano, porta palla il numero 33. Ciali su su, attenzione di Stefano, tetta la botta, Montevecchi con i piedi, ancora di Stefano al tiro, lo muro a Campogiani.